Ha fatto tappa a Pesaro, sognando Itaca, progetto dell'AIL dedicato ad ambiente e salute che lega stili di vita e scelte alimentari del paziente alla riabilitazione psicosociale. E punta sulla vela il viaggio solidale in nove tappe lungo l'Adriatico, partito da Trieste e che terminerà il 23 giugno a Brindisi. In ogni porto una giornata durante la quale l'equipaggio, formato da malati, medici, infermieri, psicologi e skipper professionisti, vivono insieme un'esperienza unica, lontani dai luoghi di cura. I pazienti onco-ematologici si trovano, come Ulisse, ad affrontare un mare aperto, sconosciuto e pieno di insidie. Grazie all'esperienza di Sognando Itaca scoprono nuovi territori, relazioni, solidarietà e risorse che li aiutano ad affrontare meglio il percorso della malattia e a migliorare la loro qualità di vita. Il progetto Sognando Itaca vuol dire riportare la vita alla normalità i pazienti ematologici. Particolarmente quest'anno c'è una simbiosi tra la riabilitazione psicologica dei pazienti, la riabilitazione attraverso la vela che permette a bambini e adulti di riabilitarsi e provare emozioni forti regalate dal mare, dal vento. Il progetto nasce come un'attività di riabilitazione psicologica attraverso la pratica della vela e quest'anno allarga i suoi orizzonti apprendosi a nuove attività che hanno come obiettivo la riabilitazione psicosociale, compresa la relazione tra cibo, salute e ambiente. Diventa sempre più importante perché non solo in relazione al mandato forte di AIL, cioè prevenzione, diagnosi precoce, trattamento di patologie anche severe, ma proprio come cittadini di una comunità di destino che questo pianeta è sempre più sofferente, ci rendiamo conto che i nostri stili di vita e le nostre scelte alimentari quotidiane possono davvero farci stare meglio o peggio, sia noi sia le generazioni future. Una relazione che è una parola chiave. La parola chiave è piano del cibo, così come si pianifica per l'energia, per i rifiuti, per il piano regolatore, il piano paesaggistico, per i trasporti, occorrerebbe una maggiore attenzione da parte delle istituzioni verso l'alimentazione. L'iniziativa si inserisce tra le attività che l'AIL e le sue 83 sezioni provinciali organizzano in occasione della giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, l'infomie mieloma del 21 giugno.